Ciao tutti quanti, oggi siamo all'oratorio per vedere una mostra di furetti ragazzi e ne ho già visti due di furetti molto belli e vi faccio vedere è una fiera, praticamente fanno la selezione dei furetti, dicono qual'è il più bello, qual'è il più simpatico e qual'è di tutti i più belli comunque l'associazione è questa qua ragazzi Ciao tutti quanti, oggi sono all'oratorio per vedere una fiera di furetti e sto tenendo in braccio un furetto guardate che bella, non è così bella, credo che io da grande ragazzi mi comprerò furetti, sono troppo bellissime se il video vi è piaciuto ricordate di attivare la campanella, di seguirmi e di mettere un bellissimo mi piace arrivederci ragazzi e alla prossima